Ciao a tutti e buon inizio di giornata a tutti, anche se qui a Milano il clima è decisamente uvido, lo vedete, è tornata a formarsi la nebbia, la visibilità in questo momento è piuttosto ridotta, ma insomma questo però vuole anche dire che la situazione della notte è nettamente migliorata, che il cielo è rasserenato e una volta che saranno andate via queste nebbie, bene, avremo una giornata di sole anche qui a Milano, come un po' in tutto il nord. Il maltempo invece sarà presente al sud, molte nubi, piogge sparse, attenzione anche al rischio di temporali tra la Calabria e la Basilicata e poi nel fila settimana, tempo complessivamente bello e soleggiato in gran parte dell'Italia, sfortunati Sicilia e Calabria perché qui il maltempo insisterà, con anche un rischio particolarmente elevato di forti temporali e nubi fragili tra Calabria meridionale e nord-est. E vediamo ora la buona notizia, inizio della prossima settimana, alta pressione per tutti da nord a sud, clima decisamente mito nelle ore pomeridiane, tempo complessivamente soleggiato, insomma la prossima sarà una settimana decisamente diversa, chissà mai che arriverà l'estate di San Martino, vedremo.